Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Una donna di 68 anni, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata sbranata da due cani di sua proprietà. È successo in un'abitazione di Concordia, nel Modenese. Sul posto sono intervenuti subito i pompieri con più squadre oltre al 118. Le condizioni della donna, pensionata come il marito, sono apparse subito critiche ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Baggiovara, ma è deceduta durante il trasporto. La vittima si chiamava Yolanda Bessutti e aveva 68 anni. A trovarla in gravissime condizioni in giardino è stata la figlia dopo aver sentito le grida. Sul profilo Facebook della donna si nota una foto con due rottweiler neri che lei stessa definisce come i miei due leoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Indaga la polizia locale. Sembra che già in passato i due animali l'avessero aggredita. Dalle prime ricostruzioni, la donna stava dando da mangiare ai cani quando l'hanno assalita mordendola alla testa e al braccio. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Non solo. I due rottweiler lo scorso febbraio avevano aggredito un giardiniere. I cani, di uno e quattro anni, ferirono gravemente l'uomo alle gambe e alle braccia, costringendolo a due interventi chirurgici durati diverse ore.